Tra le tante esibizioni a Ruotando Show, anche il magnifico spettacolo di Quad Evolution. Lo facciamo nei luoghi dove ovviamente si può, non lo facciamo in giro. Alla fine è un divertimento, sì, però lo facciamo sempre come professionisti e invitiamo tutti a seguire questi spettacoli e non emularli perché ovviamente noi abbiamo tanto allenamento dietro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.